Sono circa mezzo milione le persone che da lunedì hanno scaricato sul proprio cellulare l'applicazione Immuni, quella che permetterà di ricevere una notifica nel caso si sia venuto in contatto con una persona positiva al coronavirus. Lunedì prossimo partirà la prima sperimentazione che riguarderà le regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. Se tutto andrà bene, dal 15 giugno potrebbe essere operativa in tutta Italia. Il problema è che cominciano già a venire fuori i primi difetti. Uno su tutti, segnalato già da molte persone, è quello che l'applicazione pare non vada d'accordo con i cellulari che hanno qualche anno di troppo. Molti utenti, dopo aver scaricato Immuni sul proprio iPhone, si sono trovati davanti questa schermata nella quale viene richiesto un aggiornamento del sistema. Aggiornamento che però può essere effettuato solo nei cellulari di ultima generazione. Questo è un iPhone 5S prodotto nel 2013 nel quale Immuni non potrà mai funzionare. Sono in possesso di un iPhone 6S, ha scritto un altro utente e mi è preclusa la possibilità di usare questa app. Stessa cosa vale per i possessori di Android che devono avere una versione del software superiore alla numero 6. Immuni ha spiegato che questo problema è causato dal sistema di notifiche messo a punto da Apple e Google che non supporta i vecchi modelli di smartphone. Un problema non da poco, visto che più volte è stato dichiarato che per funzionare correttamente l'applicazione dovrebbe essere scaricata dal 60% degli italiani.